Solo due parole perché stasera sono incazzato come una bestia, come una bestia. Non si può entrare in campo con quella mentalità, non si può. Come contro l'Inter, come nel secondo tempo contro il Napoli, con l'Atalanta negli ultimi minuti. Quella mentalità del cazzo ce la dobbiamo levare dalla testa. Perché se no da qui alla fine del campionato le perdiamo con chiunque. Che sia il Betis, che sia l'Inter, che sia il Frosinone, che sia il Barcellona o il Lecce. Si devono levare questa mentalità del cazzo. Perché quando si gioca bene, si gioca bene. Ma non basta giocare bene 20 minuti alla fine e metti dentro il ragazzino, dà l'anima e segna e gioca. Poi vabbè, ci stanno anche errori bitterali ma lasciamo perdere. Però questa mentalità del cazzo di entrare con la paura deve finire. E Gattuso deve mettersi in testa che deve scegliere i suoi giocatori. Quelli che devono entrare in campo e dare il massimo. Perché così non va. Da domani si prende per le orecchie dei giocatori e si attaccano al muro. Io già dalla prossima partita non voglio dire più questa mentalità del cazzo. Perché se no, cioè veramente ragazzi, andate tutti a casa. Gattuso per primo, anche se la colpa non è totalmente di Gattuso. Però il primo a dare la mentalità è lui, cazzo. Non si può perdere così. Cioè se non si è entrato proprio in campo oggi. Così. Se avessimo perso anche 3-0, nessuno avrebbe detto niente. Mo basta, ho parlato anche troppo. Maffanculo. 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 Grazie a tutti.